Oggi vedremo la didattica dello strappo, inizieremo ora con un riscaldamento progressivo, partendo dall'articolazione del corpo per poi passare all'uso della bacchetta. Iniziamo con delle circondizioni, dei polsi e dei movimenti nel piano, nelle varie direzioni. Poi passiamo allo scaldamento sul gomito, quindi blocco il gomito destro, circondizioni in un senso e poi nel senso opposto, e la 5-6 circondizioni per braccio, poi individuare la quantità di scaldamento da fare. Poi passiamo all'espondizione delle spalle, in un senso e nell'altro, passiamo al braccio, quindi braccio atteso, il tronco segue leggermente il movimento del braccio nello spazio. Il tronco segue leggermente il movimento del braccio e lo sguardo, quindi cambiamo verso. Ok, mani fianchi, larghezza del bacino e dei piedi, gambantesia, leggeri per estensione, vado a toccare il pavimento, gambantesia, leggeri per estensione, tocca il pavimento. Davanti all'iperestensione posso contrarre il gluteo. Ok, incrocio le braccia, la testa dello sterno, lo sguardo al centro delle braccia, rotto da un lato, piede opposto a ruota, torno al centro, altro lato, sempre 5-6, per lato. Ok, torno al centro, mani fianchi, affondo, appoggio la gamba al suolo, braccio opposto teso, sforzo leggermente l'abitazione nel senso opposto. Sento a sinistra, cambio gamba, destra, cambio gamba, sempre 5-6 per lato. Poi, in questa posizione vado in una cosciata profonda, vado sulle ginocchia e faccio delle circonduzioni, piede piantato a terra, da un lato e dall'altro, cercando di rimanere nella posizione più profonda possibile della cosciata. Posso anche farle esterne, interne, da un lato e dall'altro. Se sarò posso farla alzando un po' il bacino, stessa cosa, lo leggo un po' sulle ginocchia. Poi, mi appoggio, sposto il peso su una gamba e stendo l'altra gamba. E mi sposto sulla gamba posta, stendendo la destra, in questo caso. Sempre 5-6 per lato, quindi cominciamo a muovere in maniera più dinamica da una parte per la destra. Andiamo ora a riscaldamento con la bacchetta, quindi approcciandoci all'attrezzo che utilizzeremo poi durante la didattica. Allora, cominciamo con delle semplici distensioni, presa a strappo. Possiamo fare la stessa cosa al petto, sempre presa a strappo. Poi abbassa la bacchetta, vado in punta di piedi tirando con le spalle, braccio teso. Poi, porto la bacchetta dietro, squat, classici. Stessa cosa a braccia tese. Quindi, porto a braccia tese, presa a strappo. Poi all'ultima, resta una cosciata. In questa posizione, posso fare delle distensioni sulla testa. E posso fare una camminata a braccia tese, cioè mi sposto in avanti e indietro, cercando di mantenere la posizione di incastro. E lo sto. E poi trovo il piede. Poi possiamo fare degli affondi, quindi braccia tese, faccio degli affondi indietro, la 35a a destra, 5a a sinistra. Certo di distribuire il peso equamente, la gamba che sta davanti sulla gamba che sta dietro. E' stato già da ginocchio. Grazie. 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 Grazie.